Ancora una volta i bambini saranno i protagonisti della loro città e la potranno migliorare insieme all'amministrazione comunale di Fano per renderla più accessibile, accogliente e sicura. Il primo quartiere che sarà il centro dell'attenzione dei più piccoli sarà quello di Sant'Orso, grazie ad un'iniziativa che coinvolge tre diversi tavoli di lavoro. L'avvio della fase progettuale è stato annunciato questa mattina nella sala della Concordia del Comune di Fano dal sindaco Seri, che si è tenuto per sé la delega alla città dei bambini, e dall'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin. Erano presenti la dirigente scolastica del Polo Sant'Orso, la direttrice del laboratorio città dei bambini e l'architetto Paola Stolfa. Noi avevamo detto che avremmo voluto rilanciare questo progetto che è stato un punto di riferimento alla nostra città, che ha dato lustro alla città. Poi purtroppo per scelte, adesso non entro nel merito, questa cosa è un po' scemata. In questo anno e mezzo abbiamo cercato di recuperare un ruolo di Fano, ci stiamo riuscendo, stiamo ritornando protagonisti. Allora in questo caso specifico presentiamo un progetto concreto, un quartiere a misura di bambino. Abbiamo scelto come progetto pilota il quartiere di Sant'Orso, dove attraverso una fase partecipativa, partendo dai bambini ma coinvolgendo anche gli adulti, tutto il movimento e l'associazionismo, ripensiamo all'organizzazione del quartiere di Sant'Orso. Come noi diciamo, se è uno spazio a misura di bambino, significa a misura di tutti. Si tratta di un progetto pluriennale che verrà condiviso con le scuole, le associazioni, i residenti e i commercianti e potrebbe riguardare la viabilità, la sicurezza di alcuni percorsi, la manutenzione delle aree verdi, della segnaletica stradale e delle asfaltature, ma anche una maggiore cura per i beni pubblici. Questo per i bambini è un progetto educativo, cioè la valenza educativa non va sottovalutata. I bambini non sono abituati a leggere la città, a sentire la città come propria e questo progetto ha l'obiettivo anche di rifondare quel senso di appartenenza ai luoghi e ai quartieri in cui i bambini sono abituati a essere trasportati sempre in automobile o a fare le proprie attività in luoghi dedicati, nei luoghi chiusi, a scuola, in palestra, in piscina e così via. Interventi che verranno condivisi e approvati saranno finanziati con il bilancio ordinario di quest'anno e con appositi investimenti nel 2017.